Maria Grazia Coglianis, coordinatore della Casa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, gruppo intesa San Paolo. Provengo dalla Banca dei Territori, questa è una specificità in quanto nella nostra regione si riconosce all'interno delle quattro province. Laddove la Wilka, con esperienza, capacità, anche sofferenza, crea dibattito, confronto, apporto delle proprie idee e soprattutto la parte datoriale è sempre in attesa del confronto. Il confronto che viene sicuramente con il contatto diretto con i nostri lavoratori è proprio da questo slogan, da una sola parte. Dalla parte dei lavoratori, oggi il V Congresso Nazionale, con Massimo Masi e tutte le persone che da sempre gli stanno a fianco, iniziando proprio dalle adesioni sindacali, sul territorio e dal grande attaccamento al lavoro, al mondo della banca, ma soprattutto dalla parte della gente. Per uno sviluppo giusto, anche generazionale, laddove le riforme a livello paese possano attuarsi, ma soprattutto concretizzarsi. Quindi questo è il nostro auspicio di questi lavori, di questi dibattiti, che sicuramente riuscivano a tracciare il nuovo percorso di Wilka, nuova, rinnovata, rinforzata, nelle idee di sempre, laiche, riformiste, presenti in mezzo ai lavoratori, che noi rappresentiamo con grande fermezza e anche responsabilità.